La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Ci siamo mai chiesti come mai il trattato di Maastricht, ossia il trattato sull'Unione Europea, sia stato firmato soltanto il 7 febbraio del 1992, ben 35 anni dopo la firma del trattato di Roma, che aveva istituito la Comunità Economica Europea, ossia l'embrione dell'attuale Unione Europea. Perché passò tutto quel tempo tra l'uno e l'altro, se in realtà erano strettamente collegati? A questa domanda abbiamo ricevuto le risposte più disparate, tranne quella che ha tutte le basi per essere considerata l'unica plausibile. Proviamo a darla insieme analizzandone le motivazioni. Il trattato di Maastricht venne firmato nel 92 perché un mese e mezzo prima fu sancita la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Il muro di Berlino cadde nel 1989, ma la dissoluzione dell'URSS avvenne definitivamente il 26 dicembre del 1991. State pur certi che se l'Unione Sovietica si fosse dissolta dieci anni dopo, nel 92 non ci sarebbe stato nessun trattato di Maastricht. Ma allora qual è il collegamento tra questi due avvenimenti, apparentemente così distanti tra loro? E perché è lecito pensare invece che siano stati l'uno la conseguenza dell'altro? Con la firma del Trattato di Roma, che aveva istituito la comunità economica ed anche la comunità economica dell'energia atomica, i paesi erano stati chiamati a delle prime cessioni di sovranità, ma avevano mantenuto la sovranità essenziale, ossia quella monetaria. Questo fece sì che quelle prime cessioni non ebbero un impatto sulle economie dei paesi aderenti. Anzi, l'Italia, negli anni immediatamente successivi al Trattato di Roma, attraversò quel periodo che venne definito miracolo economico. Nel 1959, infatti, i tassi di incremento del reddito raggiunsero il primato del 6,4% e continuarono a salire, al punto che ricevemmo il plauso dello stesso presidente statunitense John Kennedy in una celebre cena col presidente Antonio Segni. Addirittura una giuria internazionale, interpellata dal Financial Times, aveva attribuito alla Lira l'Oscar della moneta più salda fra quelle del mondo occidentale. Sempre nell'arco temporale, che va dalla firma del Trattato di Roma a quello di Maastricht, l'Italia divenne la quarta potenza industriale a livello mondiale, superando per un periodo perfino l'Inghilterra. Ma qual era il segreto del successo del nostro paese? Il segreto era proprio quello di essersi aperto alla comunità economica internazionale, ma conservando la propria sovranità monetaria, ossia la libertà di gestire quella moneta da Oscar alla quale fummo chiamati a rinunciare come conseguenza della firma del Trattato di Maastricht. Veniamo adesso al punto. Perché quella firma è collegata alla dissoluzione dell'Unione Sovietica? Perché le oligarchie finanziarie americane, che di concerto con i servizi segreti americani, crearono e finanziarono l'Unione Europea, avevano un solo incubo, ossia che i paesi europei, ed in particolare l'Italia, si potessero in qualche modo avvicinare all'Unione Sovietica, come conseguenza della diffusione dell'ideologia comunista nel nostro paese. Se nel 1957, per ipotesi, con il Trattato di Roma, le oligarchie americane ci avessero fatto già rinunciare alla sovranità monetaria, come avvene 35 anni dopo, gettando quindi il paese nella crisi economica, con un popolo costretto a subire politiche di macelleria sociale, perdita di diritti dei lavoratori, competizioni a ribasso sul mercato del lavoro, e tutte le altre conseguenze nefaste di un cambio fisso con economie più forti, e con una moneta debito svincolata da qualsiasi controllo democratico, allora state sicuri che il rischio di una deriva comunista del nostro paese sarebbe stato più che concreto. Lasciando invece al paese la possibilità di creare benessere, espansione economica, ricchezza, avrebbe portato gli italiani ad essere distanti dall'ideologia e dallo stile di vita che proveniva dall'Unione Sovietica. Quindi con il Trattato di Roma le oligarchie finanziarie ci condussero, è vero, già all'interno di una gabbia, ma in un tunnel che era talmente ben arredato e apparentemente vantaggioso che quando arrivamo al 1992 l'Italia risultava il paese più europeista di tutti. Nessuno però si accorse che la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell'Unione Sovietica, avvenuta esattamente un mese e mezzo prima della firma di quel trattato, aveva fatto venire meno tutte le preoccupazioni delle oligarchie americane rispetto ad un possibile avvicinamento del nostro paese all'Unione Sovietica e quindi quella gabbia doveva essere immediatamente chiusa con nuovi vincoli e definitive cessioni di sovranità, quelli che appunto portano il nome di vincoli di Maastricht. Quindi il 26 dicembre del 1991 si dissolve l'URSS e due settimane dopo viene firmato il trattato di Maastricht. Nessuno mi dirà e mi farà credere che si tratta di una mera coincidenza. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo.